Gentili telespettatori di Cilento Channel, oggi nel telegiornale ospitiamo una realtà incredibilmente nuova. Mister Lavaggio di Roberto Vecchione e il suo staff. Pensate, un servizio direttamente a domicilio. Roberto con il suo staff sarà impeccabile, ma poi vi racconteremo tutto. Adesso andiamo un attimo a presentarlo. Ciao Roberto! Ciao, sono Roberto Vecchione, faccio parte di un franchising che si chiama Mister Lavaggio 100% Made in Italy, creato da un italiano che si chiama Alessio Campanale di Prato, il quale è iniziato nel 2016 per poi spostarsi in tutta Italia e al momento siamo più di 350 goce in tutta Italia e sono il primo sul territorio del Cilento. In Campania ce ne sono quattro a Napoli, uno a Salerno, uno all'estremità della Campania alla fine e io sono il primo, come ho detto, a Capaccio che si abbraccia anche il Cilento. Spero che la mia azienda possa crescere, possa essere apprezzata da tutti, dalla signora di casa al grande imprenditore che vende auto e che affitta auto, che molleggia auto, anche perché il servizio, come ho detto prima, è a domicilio. Non viene utilizzata acqua, non viene utilizzato vapore, viene fatto solo ed esclusivamente con le mani e vengono utilizzati prodotti biodegradabili e l'auto, come ho detto, non si sposta da dove è parcheggiata, quindi si può benissimamente prenotare tramite un'applicazione. Il raggio d'azione momentaneo è soltanto di 5 chilometri, fra qualche mese sarà di 15. Una persona che è fuori da questo raggio d'azione di 15 chilometri può benissimamente chiamare tramite il numero di telefono che è 3 50 96 42 595, la mia pagina Instagram washer-capaccio-pestum o anche solo Facebook washer-capaccio-pestum Roberto Vecchione. Questo servizio, come ho detto, tanti anni fa era dedicato solo ed esclusivamente al Luxury Car, oggi è dedicato a tutte le auto, a qualsiasi persona che voglia prendersi cura della sua auto, che non vuole lavarla, ma vuole lavarla e prendersi cura della sua auto, è dedicata ai concessionari che acquistano delle auto in condizioni discrete, ma vogliono renderla brillante, perfetta, con questa tipologia di lavoro, con questi prodotti, si ottiene un'alta performanza dell'auto, viene perfetta, con odore di fresco e pulito, igienizzazione dell'aria condizionata, sanificazione ozono, trattamento idrorepellenza per i sedili, che si chiamano sport, trattamento non reine su parabrezza e su tutti i vetri dell'auto, decontaminazione dell'auto, protettivo ceramico e il tutto viene fatto a mano. Roberto, sei davvero impeccabile, devo dire la verità, hai dato delle informazioni incredibilmente valide e funzionali, ma ricapitoliamo un attimo, quindi tu praticamente risolverai il problema di tutti coloro che non avranno il tempo per poter lavare la propria auto, quindi un singolo cittadino, le concessionarie, le aziende turistiche, magari anche aziende che hanno una serie di dipendenti e quindi anche lì, insomma, è possibile intervenire, giusto? Ho capito bene, quindi? Sì, esattamente. Questa è una startup giovane, unica nel territorio del Cilento, abbiamo detto, è un'idea molto utile per il territorio, soprattutto in questo momento dove il tempo, diciamo così, è denaro, no? Scaricando l'applicazione di Mister Lavaggio che ha uno sfondo giallo come questa maglia e due stelline blu, si effettua una registrazione, si mette marca e modello dell'auto e all'interno si vanno a scoprire tutti i servizi, si parte con i servizi solo nell'interno fino a terminare con un completo porto. Molto bene, bene, bene. Molto bene, Roberto, io ti ringrazio per essere stato qui con noi in collegamento via internet, ti auguro davvero tanta fortuna e sicuramente dirò, dico ai nostri telespettatori di provare questo servizio perché io l'ho provato e devo dire la verità, i ragazzi di Roberto sono impeccabili. Grazie Roberto. Grazie a voi. Ci sentiremo sicuramente prossimamente per capire insomma anche l'evoluzione della tua bella e nuova attività. Grazie, aspetto le vostre chiamate.